Il Consiglio regionale approva il bilancio, il documento finanziario passa dopo una seduta notturna con i voti della sola maggioranza, contrari 5 stelle, centrodestra abbandona l'aula certificato un deficit da 360 milioni. Comune di Campobasso, polemiche sulle imposte, il Consiglio si è riunito per approvare le tariffe i muettari, la coalizione civica ha presentato una pregiudiziale poi bocciata, contestazioni e critiche dall'opposizione. Termoli contro il tunnel depositate 3.000 firme, cittadini contrari alla realizzazione dell'opera sotto il borgo chiedono di interrompere l'iter per i lavori e di aspettare l'esito del referendum il 9 maggio i comitati saranno ricevuti dal sindaco. Volontari della Croce Rossa denunciano anomalie, è presentato un esposto in procura a Campobasso sotto la lente i rimborsi a chi presta servizio per l'associazione, non c'è chiarezza, non sono legali, si tratta in realtà di compensi, dicono. Sospetta con BIN, sospesi i playoff di eccellenza, la Procura federale deferisce la capolista Monti Dauni e il Benafro, venerdì la Commissione territoriale in primo grado. Buon pomeriggio, benvenuti al nostro Tg delle 14, consiglio regionale in seduta notturna per la discussione, il voto sul pacchetto economico finanziario, una riunione quella cominciata nella serata di ieri e terminata questa mattina alle 7, durante la quale la maggioranza ha in pratica approvato in solitudine il documento di programmazione economico finanziaria e i bilanci dell'anno in corso e quello triennale. Il centrodestra ha abbandonato l'aula per protesta e i 5 Stelle hanno votato contro, ma sentiamo il resoconto nel servizio di Giovanni Di Tota. Tutto in una notte, ma per niente appassionante, una valanga di numeri, un elenco di buoni propositi e sul piano politico un muro contro muro tra maggioranza e opposizione, sempre più violento. Il centrosinistra ha votato e approvato tutto il pacchetto di provvedimenti economici in agenda, la minoranza di centrodestra ha abbandonato l'aula e non ha partecipato alla discussione al voto, contrari i 5 Stelle. È stato Michele Iorio a proporre un rinvio per dare la possibilità ai consiglieri di studiare gli atti. Cristiano Di Pietro, a nome della maggioranza, ha chiesto di andare avanti e così è stato. Iorio, seguito da Angela Fusco e da Giuseppe Sabusco, ha scelto di abbandonare la seduta e ha annunciato un esposto al Tar per chiedere se le regole procedurali del Consiglio siano state rispettate. Sul piano politico, ancora da annotare la decisione di Michele Petraroia di lasciare il gruppo del Partito Democratico e di aderire a quello misto. Scelte troppo diverse, ammotivato dai referendum al Jobs Act, lo hanno indotto a questa decisione. Gli indirizzi teorici del documento di economia e finanza regionale sono stati suddivisi in quattro capitoli. L'analisi del contesto socio-economico, gli obiettivi, la situazione finanziaria e infine gli indirizzi degli enti strumentali e delle società partecipate. Approvata anche la legge di stabilità, sempre con il voto favorevole del centro-sinistra e contrario dei 5 Stelle. Poi il bilancio dell'anno in corso e quello di previsione da qui al 2018. Nel primo è certificato il debito pubblico regionale di 360 milioni e mezzo di euro. Davanti a questo enorme scoglio, la maggioranza ha preso atto che la manovra regionale che accompagna la previsione dei prossimi tre anni è caratterizzata dalla continua riduzione delle risorse che arrivano dallo Stato. Da qui, è stato detto in aula, il ricorso ad azioni di contenimento della spesa pubblica e della necessità di continuare a ridurre le spese non necessarie. Quello che non si riesce però a ridurre è il livello di sfacciataggine a cui è arrivata questa classe dirigente che solo tre anni fa, e non nel Cretaceo, si è proposta agli elettori con l'intenzione di contenere la spesa pubblica e ridurre le spese non necessarie. Le indennità di carica dei consiglieri, solo per fare un esempio, sono addirittura rimaste invariate rispetto al passato. Chi ha vinto le elezioni nel 2013 aveva promesso tagli e rigore. I tagli più evidenti e tangibili, questi sì, sono arrivati dai licenziamenti e dalle centinaia di posti di lavoro persi. Per il rigore nelle azioni che mirano a ridurre le spese non necessarie, una frase che già da sé trascina nel vortice dell'ironia, a giudicare da ciò che accade a Palazzo Moffa e dintorni, andrebbero mantenuti i 5.000 euro che ogni anno vengono spesi per la carta igienica. L'Aula ha approvato all'unanimità una mozione sulla sanità. Il documento impegna il Presidente Frattura finché il Direttore Generale dell'ASREM adotti ogni atto utile a garantire i livelli essenziali di assistenza, compreso attuare progetti che supportino lo svolgimento di servizi clinico-assistenziali e prevenzione, inclusi nei LEA, anche ricorrendo ad ogni tipologia di rapporto di lavoro attivabile per soddisfare queste esigenze e assicurare che funzioni la rete di emergenza. Il Consiglio, anche approvato ma a maggioranza un ordine del giorno, a firma di Francesco Totaro, sulla richiesta di modifica di un articolo dello Statuto della Fondazione Giovanni Paolo II per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione del Centro di Ricerca e Cura. Dissenso è stato espresso dal centrodestra e contrarietà anche dai 5 Stelle che non hanno partecipato al voto sull'argomento. La Giunta ha formalizzato oggi una proposta di governance. Il Molise Resiste è il titolo della puntata di questa sera di ingresso libero. Il talk show in onda ogni venerdì su Tele Molise alle 21, condotto da Enzo Luongo. Si parlerà del futuro del Molise, dell'ipotesi della nascita delle macro-regioni e del pericolo di soppressione della Corte d'Appello di Campobasso. Ospiti in studio saranno il presidente Enzo Di Giacomo, promotore del Comitato Unitario per la Salvaguardia della Corte d'Appello, il rettore dell'Università Gian Maria Palmieri, l'avvocato Ermini Roberto, il professore Sergio Sanmartino e il sindaco di Civita Campomarano Paolo Emanuele. Ci sarà il contributo esterno del presidente del Consiglio regionale Vincenzo Cotugno. E ora ci spostiamo alla comune di Campobasso dove il Consiglio è chiamato ad approvare le tariffe IMU e Tari. Polemiche in aula per la bocciatura della pregiudiziale presentata dalla coalizione civica Critici 5 Stelle che contestano l'operato della giunta. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Stavolta la maggioranza del Consiglio Comunale di Campobasso si è presentata in aula per l'approvazione delle tariffe IMU e Tari dopo aver disertato la seduta di lunedì scorso. Il clima si è subito surriscaldato per la presentazione da parte del Consigliere della coalizione civica Francesco Pilone di una pregiudiziale respinta dall'aula. L'esponente di opposizione in segno di protesta ha abbandonato i lavori. Dopo una sospensione la ripresa con le opposizioni assenti ad eccezione dei 5 Stelle del Consigliere di Forza Italia di Bartolomeo. Dalla maggioranza l'assessore al bilancio Sabusco difende l'operato della giunta. Per quanto riguarda l'IMU è un'imposta governativa che ha origine dalla legge di stabilità la 147 del 2013. L'unica novità per quest'anno è che per quanto riguarda le abitazioni principali sono state esonerate dalla ex Tasi e è rimasta però in vigore l'IMU sulle seconde abitazioni. Il Comune di Campobasso ha deciso di fissare le aliquote al 10,6 per mille per le seconde abitazioni con le premialità relative alle abitazioni di categoria A1, A8 e A9 con l'abbattimento del 5 per mille con detrazione di 200 euro e ha rimasto invariato per quanto riguarda l'imposta del 10,6 sulla seconda casa. Sono stati esonerati anche i terreni agricoli. La Tari è un'imposta sempre di natura governativa che ha come presupposto il canone il pagamento del tributo per la raccolta dei rifiuti e come vuole lo spirito normativo il costo del servizio deve essere coperto integralmente dal gettito tributario dei contribuenti. Abbiamo applicato le tariffe per grosse linee simili a quelle dell'anno 2015 addirittura con qualche riduzione per le utenze domestiche. Siamo andati incontro a tutte le esigenze dei cittadini anche con una leggera diminuzione delle tasse. Abbiamo avuto 3 o 4 seduti in Commissione per condividere questa nostra proposta. Quindi un buon lavoro e la Commissione all'unanimità ha accettato questo dato di non aumentare naturalmente le tasse ma di rimanere come l'anno scorso. I consiglieri del Movimento 5 Stelle hanno presentato due emendamenti e restano critici rispetto alle tariffe IMU e Tari. Siamo punto e da capo. Come l'anno scorso ci troviamo con una delibera, un regolamento sulla Tari che ricalca lo stesso modo di pensare che non ci piace. Il servizio è uguale all'anno scorso, anzi se non peggiore, non è stata fatta nessuna miglioria e siccome i cittadini devono pagare per intero il servizio, noi ci troviamo a pagare circa 7 milioni di euro spalmati per i cittadini che siamo. Cioè i servizi non sono migliorati, le cifre sono rimaste uguali. Sono state depositate oggi le 3.000 firme della petizione con cui i cittadini di Termoli chiedono di interrompere l'iter per i lavori del tunnel sotto il borgo e aspettare l'esito del referendum. Intanto i comitati il 9 maggio verranno ricevuti dal sindaco Angelo Sbrocca. Sentiamo Manuela Iorio. Ci sono due procedimenti paralleli ma che viaggiano a due velocità. Quello per l'affidamento dei lavori per scavare un tunnel sotto al borgo che va avanti spedito e quello invece per indire un referendum sull'argomento e chiedere ai termolesi cosa ne pensano che invece va avanti con il freno tirato. Sono ormai nove mesi che i comitati hanno avviato la richiesta per la consultazione popolare ma tra rinvii e intoppi burocratici non si è nemmeno ancora riunita la commissione referendaria che deve valutare i quesiti. Per questo i comitati nelle scorse settimane avevano avviato anche una raccolta firme per chiedere di congelare l'iter di affidamento dei lavori in attesa del referendum. Oggi in comune è stata depositata la petizione. Oggi è un giorno storico per la città di Termoli. È la prima volta che una petizione che ha valore di istituzione viene presentata in comune, viene protocollata in comune. La petizione popolare è stata sottoscritta da me, Giulio Botteri, e dalla signora Tiziana Pellegrino. È una petizione che vuole bloccare l'iter burocratico e costringere l'amministrazione al referendum cittadino. Prima di tutto voglio ringraziare i 3.000 cittadini che hanno sottoscritto e hanno rafforzato questo appello. Di per sé ora l'amministrazione non può più, come per il caso del referendum, bearsi nel bradisismo che ha portato a perdere un anno e quindi a non realizzare il referendum cittadino. Bene, questa petizione ora li costringerà, mi auguro, a una maggiore sensibilità. Quello che i comitati chiedono è che se ne parli prima che l'opera venga realizzata e che i cittadini possano scegliere. Era stato chiesto anche l'uso della sala consigliare per un incontro pubblico sul tema, ma l'amministrazione ha negato il permesso. Intanto il 9 maggio i comitati incontreranno il sindaco. Oggi, nello stesso giorno in cui noi consegniamo queste firme, stanno aprendo le buste per l'ennesima volta con l'unico candidato a realizzare questa opera, opera che ci verrebbe calata dall'alto. Noi non meritiamo, i cittadini di Terboli non meritano questo trattamento. C'è bisogno almeno di portare in consiglio comunale questa opera. Vogliamo le responsabilità politiche e non solo di giunta, non solo di affare. Sempre più caldo il clima pre-elettorale a Isernia. Secondo Lucio Pastore c'è una cappa di illegalità che copre tutta la città. La clamorosa dichiarazione del candidato sindaco di Pensiero Libero che insieme ad Alberto Gentili ha incontrato la stampa per lanciare accuse ben precise. Ce ne parla in questo servizio Enzo Di Gaetano. Si scalda il clima pre-elettorale a Isernia. I candidati sindaci continuano a raccogliere firme candidati e arrivano anche le prime adessioni importanti che potrebbero spostare gli equilibri come quelle di Cesare Pietrangelo e Gianni Fantozzi, due personaggi pesanti del panorama politico-cittadino che si sono schierati a sostegno di Giacomo D'Apollonio rendendo ancora più consistente l'alleanza che sosserrà l'ex generale come sindaco. Sugli altri fronti da segnalare la presentazione della lista 5 Stelle prevista per domani. Al 90% il candidato sindaco è Mino Bottiglieri, 30 i candidati consiglieri, 10 donne e 20 uomini. A sinistra c'è la clamorosa denuncia pubblica di Lucio Pastore che parla di una cappa di illegalità che copre la città di Isernia e lo ha dichiarato in conferenza stampa. La questione morale è una montagna che pesa su questo territorio. La cosa assurda è che dopo i 144 avvisi di garanzia, dopo quello che sta succedendo a livello regionale, non si ha alcuna risposta. Franco Capone ha posto una questione importante. Questi soldi che vengono distribuiti dalla regione, qualcuno controlla dove vanno? Qualcuno controlla i meccanismi con cui vengono distribuiti? Si vuole fare una commissione d'inchiesta. Questo non è secondario al degrado del territorio. Se noi vediamo città come Isernia che stanno morendo, se vediamo un territorio che si sta degradando, la questione morale sicuramente è l'elemento fondamentale e discriminante che sta determinando la morte del territorio. Se noi non ci muoviamo e non diamo il giusto peso a questo motivo etico nella gestione della politica, questo territorio è finito. Insieme al candidato sindaco di Pensiero Libero anche il portavoce Alberto Gentile, che scende nel dettaglio prendendo di mira il subcommissario del Comune, il vice prefetto Tonin Collingo. Il subcommissario non poteva assolutamente essere l'attuale subcommissario perché è stato consigliere regionale per un partito politico per dieci anni, con ruoli di primo piano, sia in consiglio sia nel partito, come cavo gruppo. Dopo dieci anni si è candidato con un'altra lista fuori, con l'attuale presidente della giunta regionale, quindi ha cambiato pure bandiera. Dopodiché è stato nominato, non è stato eletto, è poi nominato subcommissario. Io dico che con tutta la buona fede la terzietà non la si può garantire in questo modo. Gentile, lei ha detto delle cose specifiche, precise, lei ha parlato di due appalti del Comune di Isernia per i due cimiteri, sollevando le obiezioni. Non sono appalti, l'obiezione mia è stata scelta proprio nel periodo elettorale. Allora, uno, quando riguarda il cimiterio di Isernia, è stata scelta una ditta con progetto finanziario, il project financing in inglese, dopodiché si manda all'ufficio tecnico per dire, se si deve modificare, dare una miglioria a questo progetto, però la ditta è già stata scelta. Poi c'è andata a gara, che significa andata a gara? Sanità, i molisani trattati come carne da macello, è il commento del senatore del nuovo centrodestra Ulisse Di Giacomo, l'ASREM ha detto, con una nota protocollata e inviata a frattura, la struttura commissereale ai prefetti, alle procure molisane, li mette al corrente della gravissima situazione degli ospedali pubblici, che potrebbero a breve non essere più in grado in Molise di garantire assistenza per carenza di personale. La stessa azienda ha continuato il senatore, denuncia che da aprile dell'anno scorso la stessa ASREM ha inviato 14 note alla regione per informarla della situazione, senza ricevere però risposte, secondo Di Giacomo, di fronte a questo fatto di inaudita gravità. Non ci potranno essere atteggiamenti omissivi e nessuno potrà fare finta di nulla. I responsabili di questo ennesimo scandalo, ha concluso, dovranno rispondere in caso di episodi che mettono a rischio la salute e la vita dei cittadini, perciò presenterò un esposto alle procure di Campobasso, Isernia e Larino. Alcuni volontari della Croce Rossa della sede di Campobasso hanno denunciato anomalie per quanto riguarda i rimborsi, è presentato un esposto denuncia in procura, sentiamo i particolari. La Croce Rossa italiana è associazione senza fini di lucro di diritto privato dal 2014 e di interesse pubblico-ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario. Questo si legge nello statuto con il pubblico, dunque stipula convenzioni ricevendo fondi. Cuore e forza della Croce Rossa sono i volontari, tali in quanto svolgono dei turni ricevendo solo dei rimborsi, spese durante il proprio servizio da giustificare con ricevute scontrini che l'associazione esibisce all'ente pubblico con cui è convenzionata. Un gruppo di volontari della sede di Campobasso, però, ha riscontrato da fine anno scorso delle anomalie che ha voluto denunciare, rivolgendosi anche a un avvocato. Benché la Croce Rossa a livello nazionale con il nostro Presidente sia stata chiara su come impostare tutti i rapporti eventualmente di lavoro con personale dipendente, qui da noi a livello locale qualche anomalia si sta riscontrando proprio nel rispetto della normativa sul lavoro. I volontari che svolgono i turni di servizio in convenzione con il 718 Molise Soccorso ricevono un compenso, a tutti gli effetti, così come sancito da alcune sentenze della Cassazione, di 51,48 euro per ogni 12 ore di servizio. Compenso che viene dato senza la richiesta a rendicondazione delle spese sostenute. Di tutto questo, i volontari coinvolti erano consapevoli? Assolutamente no. Da quando è stato istituito il 118 e la Croce Rossa ha avuto convenzioni con il 118 ai volontari non è mai stato dato alcun compenso ma solo l'opportunità di far riferimento ad alcuni esercizi commerciali per quanto riguarda la colazione o la cena. Sempre per un massimo che è quello stabilito all'interno di ogni associazione così come dice anche la legge 4 sul volontariato. È solo appunto da fine anno 2015 che sono apparsi questi compensi pagati tra l'altro in contanti ad ogni singolo volontario. Questo cosa comporta dal punto di vista legale? Dal punto di vista legale ovviamente mi viene da pensare a distaurarsi di un rapporto di lavoro non legale chiamiamolo così un lavoro nero a tutti gli effetti. Questo rapporto di lavoro ovviamente non è un rapporto di lavoro di tipo legale e quindi non comprende tutte quelle che sono diciamo le assicurazioni. Avete chiesto delle delucidazioni in merito ai vertici locali della Croce Rossa? Risposte non ne abbiamo avute. Avendo percepito questi compensi come da statuto e come poi dalle leggi di riferimento nazionale loro inconsapevolmente sono venuti a perdere lo status di volontario a tutti gli effetti. Questi volontari si sono visti perdere il diritto all'elettorato sia attivo che passivo vale a dire non potevano esprimere il proprio voto nella scelta dei propri presidenti e consiglieri e tantomeno potevano candidarsi a qualsiasi carica all'interno della Croce Rossa. Il volontario Francesco Di Bartolomeo ha presentato un esposto in procura a Campobasso. Semplicemente a tutela del buon nome della nostra associazione. Sul blitz dei carabinieri del NAS nei centri trasfusionali del Molise interviene Lino Spagnuolo responsabile regionale del servizio trasfusionale dell'ASREM che ha affermato che non si tratta di indagini su traffici illegali di sangue bensì solo di accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria delle esatte modalità di raccolta esterna del sangue ad opera di alcuni operatori sanitari. In sostanza solo un'inchiesta su alcuni aspetti per lo più economici e non sul traffico del sangue che continua ad essere raccolto e distribuito regolarmente negli ospedali della regione. E la procura di Isernia ha chiuso l'inchiesta sull'ex assessore regionale Massimiliano Scarabeo e nei giorni scorsi ha inviato l'avviso di conclusione indagini confermate le ipotesi di reato frode fiscale e truffa l'indagine è stata chiusa ha confermato il procuratore di Isernia Albano che ha escluso una richiesta di archiviazione nei 20 giorni successivi all'avviso di chiusura indagini la difesa può presentare una memoria o chiedere un interrogatorio i legali hanno già chiesto un interrogatorio apprendo della conclusione del lavoro di indagine svolto nei miei confronti da parte degli organi inquirenti ed è con estremo rispetto per la magistratura che mi rimetto con serenità al suo giudizio una serenità a concluso Scarabeo che nasce non solo dalla fiducia del potere giudiziario ma anche dalla mia stessa coscienza di uomo e di amministratore della cosa pubblica parliamo ancora di inquinamento nella piana di Venafro e della manifestazione dei trattori perché alla richiesta di un monitoraggio delle emissioni più capillare e trasparente ha risposto il presidente di Era Ambiente Filippo Brandolini i controlli ha detto vengono fatti 24 ore al giorno e i dati sono a disposizione di tutti sentiamo Sergio Di Vincenzo quella dei trattori è solo l'ultima delle manifestazioni organizzate per richiamare l'attenzione sull'inquinamento ambientale nella piana di Venafro una marcia che dalla Colacem di Sesto Campano ha condotto all'Aera Ambiente di Pozzilli in questa occasione i promotori dell'iniziativa hanno chiesto a gran voce maggiori controlli a partire da una centralina che verifichi le emissioni 24 ore al giorno la risposta della società che opera nel nucleo industriale di Pozzilli non si è fatta attendere e arriva direttamente dal presidente di Era Ambiente Filippo Brandolini questo tipo di monitoraggio ha detto viene effettuato già da un pezzo e non è l'unico questo impianto è stato progettato concepito e gestito per agire nella maggior sicurezza possibile nei confronti dell'ambiente è un impianto che fin dalla sua attivazione è monitorato in continuo quindi le emissioni dal camino sono controllate in continuo questi dati vengono elaborati da specifiche strumentazioni che sono certificate e controllate e vengono inviati ad Arpa Molise per i successivi controlli e questi dati da quando siamo insediati come Era Ambiente sono anche pubblicati online con aggiornamenti ogni 30 minuti questo impianto nel corso degli anni peraltro è stato oggetto di tante altre attività di monitoraggio e di ricerca di eventuali impatti nel territorio circostante quindi non ci si è limitati a controllare le emissioni ma anche le eventuali ricadute nel territorio circostante e sono stati fatti studi su vari parametri ambientali dalle ben note diossine fino anche a metalli pesanti piombo, zinco ed altri ancora tutti questi studi queste ricerche che sono stati effettuati in accordo con le istituzioni locali regione Arpa Molise i comuni il consorzio per lo sviluppo industriale di Venafro e Pozzilli tutti questi studi e con la collaborazione di università qualificate varie università molto qualificate non hanno mai individuato correlazioni tra l'inquinamento nel territorio e le emissioni dell'impianto domani pomeriggio alle 16 presso il centro Temenos a Monterodoni si terrà un importante momento di aggregazione tra i malati di Parkinson e le loro famiglie l'evento è patrocinato dall'associazione Parkinson che attraverso la teatroterapia darà una dimostrazione di come sia possibile combattere la malattia con la recitazione e dall'associazione Dea Molise Demenza e Alzheimer che renderà il suo contributo con la sua presidente Cristiana Cornacchione per una consulenza gratuita nel disbrigo delle pratiche amministrative nonché informazioni relative alle normative sociali regionali che prevedono aiuti alle famiglie nel sostegno dei pazienti sit in dei 35 cantonieri di Isernia licenziati dall'amministrazione provinciale i lavoratori hanno chiesto l'aiuto di Tiziano di Clemente e Emilio Izzo e hanno presidiato a lungo l'ingresso di Via Berta il servizio ancora di Enzo Di Gaetano Presidio in Via Berta davanti agli uffici della provincia per i 35 cantonieri a cui non è stato rinnovato il contratto di lavoro 35 padri di famiglia che non hanno più di che sfamare i loro figli ironia della sorte un mese del loro stipendio equivale a quello che la provincia di Isernia ha speso solo qualche tempo fa per pagare le ferie non maturate a un suo ex dirigente qui bisogna salvaguardare il posto di lavoro dei cantonieri loro svolgono un servizio utilissimo per la nostra provincia quindi è ingiusto tagliare questi servizi quando invece si fanno sperperi per milioni di euro per cose inutili e tutte le ruberie che sappiamo ma le speranze di rimettere al lavoro i 35 cantonieri non sono del tutto perse bisogna accompagnare questi lavoratori alla fine dell'anno poi si deciderà cosa succederà di questa provincia e per fare questo basta veramente un gruzzoletto di denaro che tra l'altro c'è anche solo che evidentemente qualcuno sta giocando al rialzo e pare che tutti questi servizi vogliono essere esternalizzati come al solito insomma qualcuno già è pronto dietro la porta per occuparsi di quello che questi signori stanno facendo a tempo le voci dei lavoratori non fanno che confermare la loro forte preoccupazione è uno stato d'ansia non solo comprensibile ma più che giustificato noi lavoriamo dalla fine di marzo questa situazione va avanti dal 1998 con contratti a tempo determinato prima facevano 4 mesi 4 mesi e 4 di disoccupazione poi arrivati a dicembre 2010 hanno fatto un contratto per 3 anni dopo la scadenza di questi 3 anni hanno fatto altri contratti a tempo determinato però l'ultimo decreto che ha fatto Del Rio dicendo che i contratti potevano essere prorogati fino al 31 dicembre 2016 però la provincia non ha nessuna voglia di far prorogare questi contratti intanto in servizio sono rimasti solo 10 cantonieri con le strade della provincia che praticamente sono rimaste senza manutenzione con i relativi rischi per gli automobilisti e intanto le strade della provincia di Senne chi le pulisce? abbandonate nessuno sono rimaste 10 persone che sono ancora a tempo indeterminato della provincia e quindi non ce la faranno per coprire 860 km di strada il Rotaract Club di Campobasso associazione che organizza attività di raccolta fondi da devolvere in beneficenza ha preparato per questa sera a Pericena con delitto un evento durante il quale verrà messo in scena uno spettacolo invitando i partecipanti a risolvere un caso di omicidio e a scoprire il colpevole in perfetto stile Cloedo il vincitore avrà diritto a due premi offerti dal MUV e dal pastificio la Molisana sarà un appuntamento informale che però ha l'aspirazione di dare un importante contributo il costo della partecipazione alla serata è di 12 euro il ricavato sarà devoluto al reparto di neonatologia dell'ospedale Cardarelli di Campobasso l'aperitivo cenato si terrà questa sera presso il locale MUV in via Garibaldi nel capoluogo a partire dalle 20 dalle 20 scusate Campobasso avrebbe dovuto ospitare alcune scene del film dedicato alla vita di Nino Manfredi quando sembrava tutto fatto a due settimane dal Ciac dalla produzione è arrivato lo stop motivato dalla ristrettezza dei tempi le scene saranno girate a Spoleto e in città monta la polemica con l'amministrazione comunale che finisce sotto accusa Anna Maria Di Matteo Campobasso Spoleto alla fine la spuntata la città dell'Umbria famosa per il festival dei due mondi dedicato alla musica all'arte alla cultura allo spettacolo una sfida impari che il capologo del Molise avrebbe almeno dovuto tentare di giocare invece è andata male anzi malissimo al centro della vicenda alcune scene che il regista Luca Manfredi figlio di Nino l'artista scomparso 12 anni fa aveva deciso di girare a Campobasso l'intera troupe della quale fanno parte attori del calibro di Gigi Proietti e Nancy Brilli sarebbe stata in città per un paio di settimane la produzione la nota Compagnia Leone cinematografica era in contatto con il comune e la regione aveva chiesto un contributo complessivo di 30 mila euro la regione avrebbe detto sì lo stesso avrebbe fatto anche il comune con il sindaco Battista che avrebbe dato disposizione di inserire 15 mila euro in bilancio quando tutto sembrava andare per il verso giusto a due settimane dal ciacchi in Molise è arrivata la doccia fredda dalla produzione una mail scarna di poche righe con la quale annunciava il dietrofronto purtroppo non si riescono ad attivare le corrette procedure per un'adeguata preparazione del film in terra molisana immancabili le polemiche e gli attacchi e l'indirizzo dell'assessore comunale alla cultura Emma De Capua in favore della quale però si è schierato il sindaco Battista abbiamo dato la nostra piena disponibilità alla produzione ha chiarito evidentemente poi ci avrà ripensato ma non è certo di peso da noi ha chiusato il sindaco sarà anche vero ma per Campobasso e per il Molise ancora un'occasione persa e così nella fiction che andrà in onda in prima serata sul Rai 1 non vedremo l'attore protagonista il molisano Elio Germano nei panni di Nino Manfredi attraversare la nostra piazza Pepe lo vedremo invece passeggiare in un'altra piazza splendida ma che non è quella di Campobasso restando in tema di cinema sta per uscire nelle sale l'amico Francesco D'Assisi e i suoi fratelli del regista francese Renaud Felì nei panni di San Francesco proprio l'attore originario di Duronia Elio Germano dopo l'intensa interpretazione di Giacomo Leopardi nel Giovane Favoloso un'altra prova di carattere e forza per uno degli attori italiani più bravi nel panorama internazionale Germano intervenendo al Festival del Cinema Europeo di Lecce dove ha ricevuto un premio alla carriera ha parlato del film e di come si è calato nel personaggio un percorso molto affascinante per l'attualità estrema del pensiero francescano e della politica intorno ad esso cioè ha detto come la Chiesa ha detto Germano come la Chiesa ha reagito a tutto questo ed è una metafora per leggere tantissime altre cose a concluso e adesso gli auguri a Manuele Martelli che si è laureato in scienze della politica e dell'amministrazione con una tesi di laurea dal titolo l'influenza dell'università sulla comunità del Molise analisi del questionario di opinione e bilancio sociale 110 e l'ode il voto finale relatrice la senatrice Cinzia Dato elaborato molto apprezzato dalla commissione una ricerca originale che ha indagato la dimensione accademica e ha quantificato il grado di influenza esercitato dall'Ateneo regionale sondando l'opinione dei molisani degli studenti e dei docenti sulla collettività la tesi ha vinto il premio indetto dalla fondazione Lello Lombardi e dall'istituto nazionale Luigi Sturzo ancora auguri a Manuele Martelli per la laurea è tutto termina qui il nostro telegiornale dopo la sigla le previsioni meteo poi la linea ai colleghi dello sport noi ci rivediamo alle 15 per gli aggiornamenti buon pomeriggio a Manuele Martelli a Manuele Martelli a Manuele Martelli Grazie a tutti.